E' morta a Roma all'età di 53 anni dopo aver combattuto per un anno con una grave malattia l'attrice Vittoria Piancastelli, moglie dell'artista originario di Scario Bruno Cariello, anche lui attore e amico del Villamare Film Festival. Vittoria Piancastelli era un volto noto per il pubblico televisivo che la ricorda per le sue interpretazioni in fiction di successo come Ultimo, Giornalisti, Valeria Medico Legale, il giudice Mastrangio, il bambino della domenica, ho sposato uno sbirro e Don Matteo. L'attrice romana però ha portato le sue doti di passione e ironia anche al cinema e in teatro. Per il grande schermo ha lavorato con Aldo Giovanni Giacomo nel film Tre uomini e una gamba, con Sergio Castellitto in Non ti muovere e per le pellicole Matrimoni, diretto da Cristina Comincini, La scuola è finita di Valerio Ialongo e La cena di Ettore Scola. Per il teatro invece nel suo curriculum il diploma alla scuola di Gigi Proietti e le collaborazioni per Giancarlo Sepe, Armando Pugliese e Carola Silvestrelli. Al termine della malattia Vittoria Piancastelli ha voluto trascorrere i suoi ultimi giorni a Scario, paese natio del marito, dove l'attrice era stimata e ben voluta da tutti, dove ha più volte in passato partecipato a diverse manifestazioni culturali e dove, da credente qual era, ha espressamente richiesto di ricevere il sacramento degli infermi e di essere seppellita. I funerali di Vittoria si terranno a Roma martedì 15 settembre alle 11.30 nella Basilica di Santa Maria Auxiliatrice e saranno concelebrati anche da Don Tonino Cetrangolo, parroco di Scario. Poi la salma sarà trasportata nel pomeriggio nel piccolo borgo marinaro del Golfo di Policastro, dove alle 18 si svolgerà la Santa Messa ufficiata da Don Antonino Savino. La redazione e la direzione di 105 TV partecipa al dolore dell'attore Bruno Cariello e della sua famiglia.